POTENTA PARA RAGAZI 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 ARIGAZI POTENTA PARA RAGAZI NO Niente NO Sİ VE LO DICO PERCHE NEL CASI POTENTA PARA RAGAZI POSSO ANCORA PERDERLO PERÒ NON POTRÈ PIU FARE UNOWIJAR MATCH CON GABONE STASERA SI SI FA STASERA PERCHE APPUNTO NON HO PIU UN CREDITO PUC NON BAFTO SEGA CHEVIGNO LUCIO CHEVIGNO NO MADONNA CHE PARATA 4-1 era CHIUSA DEBRUI CHIUDIAMOLA ANDIAMOLA CHIUDE felipe felipe non la chiusa porca vacca azzurra chiuderla chiudiamola chiudiamola mente che chiudila la chiusa oddio meno male 4 a 2 all'ottantanovesimo tecnicamente chiusa la partita no non deve segnare adesso ti prego non facciamogliela fare super porca vacca 4 a 3 meno male che lo io ho detto che l'ho chiusa dovevo stare zitto porca miseria oh 4 minuti devono essere passati dai ma che stiamo scherziamo vai bravo così oddio si ma dovevo pure che ripartisse yes e vanno a vincere il primo dei pink pale del team of the year madonna è stata dura assai come va a palma come partita adesso vi farò vedere le statistiche poi vi saluterò innanzitutto ragazzi per favore raggiungiamo i 1500 mi piace e poi mi ero scordato di dire una cosa siamo diventati 25.000 magi infatti perchè 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 ho raggiunto 25.000 iscritti quindi vi ringrazio alla granderima spero che appunto questa è un sogno è un sogno che spera che non finisca più e questa qua comunque è la squadra anche se l'avete già vista che appunto quella che ho utilizzato nella squadra da 150.000 iscritti in questo caso va da un milione qualcosa dato che appunto ho utilizzato noi al team of the year comunque questi qua sono le statistiche se gli stiri io quindi ci tiri importa io che precisione 10 stiri a lui no mi importa lui che precisione anche lui e quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e vi saluto lasciate un bel mi piace un bel commento commentate commentate augurando di buona fortuna per il match che forse si giocherà stasera e comunque detto questo vi saluto e dico potente a parlare sempre al prossimo video buona